A Grotta Minarda si dibatte di illuminotecnica in questi giorni. I nuovi corpi illuminanti a basso consumo energetico posizionati nei lampioni lungo corso Vittorio Veneto nell'ambito dei lavori all'invaso spaziale non soddisfano. Siamo al buio, dicono i cittadini, in molti già rimpiangono la precedente illuminazione che caratterizza ancora Piazza Grande con le classiche sfere bianche. L'amministrazione spiega che si tratta di prove tecniche che le luci sul corso saranno potenziate. Basta aumentare i led, se magari adesso sono 15, portarla a 30, 40, però è in programma che devono cambiarla. Quindi diciamo una prova tecnica che però non è andata bene. Prova tecnica di trasmissione. Devono solo cambiarla perché non va bene così. Fra poco hanno detto che la cambiano, quindi hanno capito che ci sono degli errori. Esteticamente sono belle, però fanno poca luce. Bisogna cambiare soltanto i led. Quindi potenziare. Potenziare perché veramente fa poca luce. Non fanno luce. Prima erano, cioè facevano più luce prima che adesso. E quindi va cambiata. Va cambiata. Ho aumentato il volume. Non sono buoni. Il restyling a livello diciamo classico potrebbe essere qualcosa di bello, però a livello dell'università apparentemente sembra abbastanza scarno come luce. Non sono buone. C'è troppa oscurità. In effetti noi riusciamo, forse di sera dobbiamo uscire con delle lambade nostre per camminare. Quindi lei consiglia di dotarsi di torce. Sì, sì, tranquillamente. I corpi luminosi sono corpi a led e quindi c'è sicuramente un grande risparmio energetico perché questa è anche la politica senza fare dispersione diciamo di energie perché i costi delle energie elettriche sono anche abbastanza consistenti. Quindi a modernare, rendere maggiormente più efficiente l'illuminazione è una delle scommesse forti che noi ci stiamo cercando di fare. Quindi siamo in fase di sperimentazione, di trovare la giusta tipologia. Ancora stasera ci saranno sul Grotto Minard e ci saranno sperimentati diversi corpi luminosi. Lucido, attivo, pieno di ricordi e di aneddoti, nonno Pietro Taurasi si commuove spesso alla festa per i suoi cento anni circondato dall'affetto dei suoi quattro figli, dieci nipoti e sedici pronipoti, alcuni dei quali tornati per l'occasione dall'America, tutti con una maglietta blu dedicata a lui. Guerra in Libia, prigioniero dei tedeschi, costretto ai lavori forzati in una miniera vicino Berlino, ma poi tornato nella sua a Gesualdo il matrimonio con la giovanissima Maddalena. Una vita serena, semplice da agricoltori, una famiglia sana, ricca di buoni principi. È una giornata splendida, favolosa e mezzo a voi è una meraviglia. Passate po' volte fa, che vi posso dire? Se vorrei contare tutte le mie stracche, ci vorrei copolare. cartofone e un po' di sugo di chissà di che è, semonale sulla buccia. È un pane nero. È una fetta di pane nero. Una fetta? Poco, poco. E in quei momenti, io scusate tutte. Che marito è? Bravo? Bravo, bravo. Sono 72 anni e non mi ha dato mai così. Massimo rispetto. Gli mi ha rispettato una parte all'altra. Papà è lucidissimo, lei lo accudisce sempre. Che papà è? L'ultima dei quattro figli. Papà ha avuto sempre un grande amore per la famiglia. L'ha messo sempre in primo piano. Lui diceva sempre, di solito, canticchiava, dolce chimera sei tu. Ma questo è un sogno che si è avverato. È una realtà. Veramente un bel traguardo. Lei è tornata dall'America per festeggiare il suo grande papà? Sì, sì. È veramente un grande papà, sì. Nel vero senso delle parole, papà è una persona molto sensibile, affettuosa. E' veramente la nostra roccia. I suoi insegnamenti che ci ha dato, ci hanno aiutato a vivere la nostra vita e ci aiutano ancora ogni giorno. Auguri! Un cammino fisico e dell'anima. Fare un viaggio in terra santa è un'esperienza unica, soprattutto per chi possiede una profonda fede. È un'emozione che sta vivendo in questi giorni una folta delegazione, circa 100 persone, appartenente alla diocesi di Ariano Lacedonia. In testa, Sua Eccellenza è il Vescovo Sergio Melillo, che ha lasciato per alcuni giorni la sua sede arianese in piazza Pleviscito per visitare nuovamente i luoghi più santi della cristianità. Nelle immagini lo vediamo a Gerusalemme, all'ingresso della Basilica del Santo Sepolcro e durante la visita al Calvario, luogo della morte di Gesù. Ma l'itinerario del pellegrinaggio diocesano prevedeva anche Nazareth, luogo secondo i Vangeli dell'apparizione dell'angelo alla Madonna e dove Gesù visse da bambino e da ragazzo e poi il lago Tiberiade, che vide il periodo di vita pubblica di Gesù e molti suoi miracoli, compreso quello del cammino sulle acque. Affare da Cicerone, padre Massimiliano Palinuro, grande viaggiatore, missionario in Turchia, guida ufficiale dei pellegrinaggi in Terra Santa e poi insieme al Vescovo ci sono Don Alberto Lucarelli, rettore del Santuario Madonna di Fatima, Dariano, Don Marco di Brita, parroco di San Giovanni Evangelista, sempre a Dariano, Don Carmine Santoro, parroco di Grotta Minarda, Don Cornelio d'Ascalu, parroco di Carife, Don Michele De Vincentis, amministratore parrocchiale di Scampitella ed ancora Don Tonino Biondi, parroco di Villanova del Battista, Don Gerardo Ruberto, parroco di Vallata, Don Luigi De Paola, parroco di San Nicola Baronia, alcune suore dello Spirito Santo di Ariano e numerosi fedeli. Il gruppo è partito venerdì 6 luglio e farà ritorno venerdì 13, una settimana intensa dalla quale i viaggiatori ritorneranno certamente ancora più motivati e carichi di fede, ma anche arricchiti culturalmente per la visita a luoghi di grande bellezza paesaggistica e valenza storica, oltre che religiosa. Si è per fortuna conclusa nel migliore dei modi la vicenda che ieri ha tenuto col fiato sospeso Castelfranci per ore. Dalle 13 fino al tardo pomeriggio un 49enne del posto ha minacciato di togliersi la vita gettandosi in un dirupo legato ad un albero per il collo. Poi, grazie alla mediazione di un carabiniere, si è convinto a tornare sui suoi passi. L'uomo è uscito di casa nella mattinata in forte stato di agitazione, portando con sé una corda. Si è recato in un fondo agricolo caratterizzato da una notevole pendenza che si trova proprio di fronte a casa sua in contrada a Baiano. Lì ha infilato il cappio alla gole, ha legato l'altra estremità ad un albero, minacciando di lanciarsi nello strapiombo e pronunciando frasi deliranti sulla sua intenzione di farla finita. La moglie, dopo qualche tentativo per cercare di convincerlo a slegarsi e a tornare in casa, ha chiamato i soccorsi. Sono così arrivati i carabinieri della locale stazione e quelli di Montella, personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Ma l'agricoltore ha continuato a minacciare l'insano gesto, alternando momenti di delirio a momenti di relativa calma. I motivi della decisione di farla finita sarebbero riconducibili ad un lutto. Pare che la recente scomparsa della madre lo abbia portato in una condizione di forte depressione. Nel tardo pomeriggio poi la svolta. Dal comando provinciale di Avellino viene inviato a Castelfranci un carabiniere specializzato negoziatore, il marescello maggiore Vincenzo Baldassarre, comandante della stazione di Volturara, il quale, dopo una lunga trattativa, è riuscito a toccare i giusti tasti psicologici e a convincerlo a desistere, a lasciare quella corde ed accettare le cure mediche. Il 49enne è rientrato in casa ma ancora in forte stato di agitazione. Presso la sua abitazione, incontrada a Baiano, è subito iniziata una processione di amici e parenti per far sentire a lui e alla sua famiglia, stremata da una giornata di angoscia, tutta la vicinanza e il supporto possibili. Alla vigilia del nuovo Consiglio Comunale di Mirabella sulla questione trasferimento liceo chiesto dalla minoranza, gli assessori Gerardo Sirignano e Dagnese Vietri, fautori del piano B, ossia collocare il classico insieme all'alberghiero nell'ex municipio dopo i necessari lavori di adeguamento, intervengono dando del pinocchio al sindaco Capone, rinfacciando a lui e all'assessora Raffaella D'Ambrosio il mancato impegno per il centro storico e minacciando di rimettere le deleghe. Spostare il liceo classico al passo significa condannare Mirabella Centro alla morte, dicono, non si tratta di campanilismi o personalismi ma di salvare un'istituzione storica e fondamentale per l'economia. Nonostante una delibera del Consiglio votata all'unanimità con la sola stensione della D'Ambrosio e nonostante i paroloni del sindaco ribadenti l'amore per il centro cittadino, durante gli ultimi sei mesi è stato fatto di tutto per creare un percorso minato ed ostacolare il progetto che prevedeva la collocazione del liceo nel palazzo di città. L'atteggiamento ostico mette a repentaglio anche il futuro dell'istituto alberghiero, si rischia di chiudere in modo definitivo le saracinesche a Mirabella per riaprirle sotto il portoncino di Casa Capone. Sin qui l'attacco di Vietri a Serignano, immediata la replica di D'Ambrosio, la mia posizione è stata chiara sin dall'inizio, trasferire il liceo classico al passo nell'ex scuola elementare attualmente vuota e a costo zero per i cittadini. I due cercano di smarcarsi da un vicolo cieco in cui si sono cacciati da soli. Per poter aprire ad entrambi gli istituti nel palazzo di città occorre necessariamente la spesa complessiva di 295 mila euro, indipendentemente dalle autorizzazioni. Ci dicessero dove hanno intenzione di trovare questi soldi, visto che hanno rastrellato il bilancio comunale e dove pensano di far iniziare le elezioni a settembre, conclude in maniera secca l'assessora. Ricordiamo che la scorsa settimana la vecchia sede del liceo classico... Alle sette in punto, mentre suonano le campane del santuario di San Pompilio e dopo la benedizione, i pellegrini erpigni e pugliesi sono partiti per ripercorrere l'ultimo viaggio effettuato dal santo nel 1765, da Monte Calvo, Casa Natale, a Campi Salentina, dove San Pompilio Maria Pirrotti morì. Una maratona staffetta, il cammino di San Pompilio, ma anche un pellegrinaggio di fede ed un gemellaggio tra due regioni, in cui si alternano atleti e persone comuni per percorrere 380 km in due giorni. Saranno toccati centri importanti come Foggia, Trinitapoli, Barletta, Molfetta, Bari, Mesagne, Cellino-San Marco, fino alla metà finale vicino Lecce, prevista per le 17 di domani. La partenza vedo che è sentita e entusiasta e quindi arriveranno fino in fondo e poi è un cammino già fatto da San Pompilio, li ha preceduti su una buona strada. L'idea nasce con l'obiettivo di creare questo percorso, il cammino di San Pompilio, che diventa un cammino europeo, che poi nel tempo le persone spontaneamente lo possano fare come fa tanti cammini e con una settimana, 10 giorni, 20 giorni, 30 giorni, a secondo il tempo di percorso che può fare la persona. Podisti, esperti e non, quante persone coinvolte? Allora, podisti e esperti, tra le persone siamo una trentina, poi si aggancerà da campi un gruppo da 50, quindi tutti quanti, quelli direttamente 70-80, tra gli sponsor e poi la comunità, su tanti veramente. E oltre all'aspetto sportivo c'è anche quello di fede, insomma, per San Pompilio. Tutto, diciamo, come fede e poi tutto il resto che saremo, penso che ce la faremo. Noi pensiamo ai primi 10 chilometri, poi gli uomini tra i 10, 15, 20, 30 pure, boh! Spero che sia una bella esperienza per tutti, sicuramente è bella, ci vuole tanta forza e coraggio e speriamo che ce la facciano tutti. Stanno di Monteleone di Puglia, però per collaborare con gli amici per partecipare a questa grande avventura. Quattro diciottenni arianesi diventano ambasciatori di scovere Unione Europea. Hanno partecipato a questo concorso e hanno vinto la possibilità di girare tutta l'Europa gratis. Quindi siete pronti per partire? Eccoli qua, abbiamo Martina Urti, Giulia Loconte, Antonio Loconte e Giorgio Galasso. Allora, qual è la meta che avete scelto? Sia Berlino che Amsterdam. E quando partirai? Il 22 agosto. Quindi partirete insieme oppure singolarmente? No, io e Giorgio insieme. Quindi voi due partirete insieme, quindi sarà ancora più divertente. Com'è stato partecipare al concorso? No, è abbastanza facile. Già si sapeva da un po' che c'era questo bando a disposizione. Verso metà giugno è arrivata l'ufficialità e ci hanno fatto delle domande sul patrimonio culturale con una domanda a Sparigio, a cui si doveva rispondere tranquillamente. Martina, tu dove andrai? Noi abbiamo deciso Vienna, Praga e Berlino e partiamo insieme. Partirete insieme, quindi anche per voi è una bella esperienza da condividere. Ecco, sicuramente per vincere questo concorso siete tutti e quattro ragazzi brillanti. Quindi dite che è stato facile, ma in realtà immagino che le domande non erano proprio semplicissime. Insomma. Qual è quella che ti è stata più ostica? La domanda di Sparigio. Ma siete stati bravi. Tra l'altro venite tutti e quattro da scuole diverse. Io vengo dal liceo linguistico di Ariane Urpino. Io dal tecnico. Liceo scientifico. Pure io liceo scientifico. La Comunità Europea vi paga il viaggio, quindi viaggerete in treno e per il resto però dovrete provvedere voi. Sì, noi dobbiamo sostenere tutti i costi per gli alberghi, gli hotel o gli ostelli. Comunque dobbiamo decidere ancora dove dormire, invece loro ci pagano tutti i treni. È la prima volta che esci da sola. Sì. Quindi sei emozionata per questo? Abbastanza. In bocca al lupo e divertitevi. Bene, grazie. Grazie. Acceso confronto in Consiglio Comunale sul trasferimento del liceo classico Eclanum. Tiene ancora a banco la stucchevole, se non medievale, diatriba tra Mirabella Centro e Passo, anche se alla luce di quanto è emerso l'edificio dell'ex elementare al Passo, al momento resta l'unica soluzione per dare una sede agli studenti a settembre, visto che la struttura privata in via variante è stata svuotata a giugno. Il capo dell'opposizione, Antonio Sirignano, che ha chiesto la nuova seduta sul tema, ha sottolineato quanto poco in questo lasso di tempo di sei mesi sia stato fatto per dare il via ai lavori di adeguamento all'ex municipio, che già ospita l'alberghiero, individuata anche per il classico, e ha chiesto chiarezza al sindaco. Sulla questione, tra l'altro, è scontro nella stessa maggioranza. L'assessora Agnese Vietri ha letto una relazione a nome anche dell'assessore Gerardo Sirignano, impegnato al mare, in cui ha ripercorso tutti gli step della vicenda e soprattutto del progetto per l'alberghiero, accusando il sindaco, al quale avevano già dato del Pinocchio il giorno prima attraverso un comunicato stampa, di ostracismo. In particolare per il fatto di non aver partecipato e tantomeno delegato nessuno all'incontro con il Ministero, per superare alcune criticità sull'ex municipio. Il vero nodo emerso ieri, infatti, al di là delle questioni scala antincendio non prevista nel primo stralcio e sistema di areazione, è il vincolo posto nell'articolo 13 della Convenzione di non poter variare la destinazione d'uso della struttura per cinque anni, se non con l'autorizzazione del Ministero. Pena la restituzione del cospicuo finanziamento della Comunità Europea. Tant'è che la gara d'appalto per i lavori è stata espletata con riserva. Intanto, martedì, l'apertura delle buste. Il Sindaco Capone si è ovviamente difeso dagli attacchi. Non sto dormendo, non sto osteggiando, ha detto. È stato fatto tutto il possibile nei tempi a disposizione. Abbiamo rastrellato 120 mila euro dal bilancio comunale, che adesso è a zero, ma poi è emerso che di euro ce ne vogliono 293 mila. Questo è il vero problema, reperire i fondi. Ci stiamo facendo carico di una questione che dovrebbe gestire la provincia, che invece fugge. Molto critica sull'aspetto economico anche l'assessora Raffaella D'Ambrosio, che ha evidenziato come per una questione di assurde distinzioni territoriali non si vuole utilizzare una struttura vuota a costo zero, poiché non è attribuibile alla presenza o meno di un liceo il destino economico del centro storico. Grazie.